Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1, traffico rallentato tra Firenze Sud e in Cisa Reggello in viaggio verso Roma. Tra il BV A1 Variante e Firenzuola, si viaggia a ridento per l'intenso traffico in entrambe le direzioni. In FIPILI, in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci per viabilità esterna congestionata. Sul raccordo siena Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento A1, Firenze e Impluneta. In occasione della Notte Cubana a Empoli, evento che fa parte dell'estate empolese, importanti variazioni quest'oggi alla sosta e alla viabilità in centro città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!